Buongiorno, buona domenica a tutti e bentornati sulla rubrica diversamente. Ciao, buona domenica a tutti. Ormai è il terzo episodio, quindi non abbiamo bisogno di stare qui a presentarvi la rubrica, possiamo passare direttamente all'argomento che sarà, che affronteremo in questo terzo episodio. Lo introduci tu, Fede? Sì, allora, per chi si fosse collegato per caso soltanto adesso e avesse scoperto solo questa rubrica, vi ricordo che gli episodi sono legati alla mia raccolta di racconti di essere di mosaico. Parliamo appunto di diversità e in generale di discriminazioni o comunque di argomenti che riguardano attualità, vita sociale, eccetera, eccetera, sempre appunto legandoci ai racconti della mia raccolta. Il racconto di oggi ci porterà a parlare di diversità intesa come percezione, diciamo, personale dell'essere diversi rispetto agli altri. Quindi in un certo senso possiamo parlare anche di una decisione volontaria di essere diversi o la sensazione magari di essere diversi quando magari agli altri non è che dà così il fastidio questa diversità, però siamo noi che percependoci in una maniera totalmente non affine a quella di chi ci circonda o del tempo in cui viviamo ci diamo un po' questa etichetta, se vogliamo definirla in questo modo. C'è un cane? Allora, sì, diciamo che l'argomento della scelta dell'essere diversi più approfonditamente dell'anticonformismo l'abbiamo trattato anche nel primo episodio che vi invito a andare a recuperare e invece questa volta prendiamo in esame il terzo capitolo, essendo appunto questo il terzo episodio, parleremo della storia di Lara che è appunto la protagonista del terzo racconto che è una ragazza che, devo dire, quando io ho letto quel racconto ho pensato, beh, ma lei alla fine cosa ha di particolare? Non ha niente di così stravagante come magari altri personaggi del libro, però in realtà è Lara stessa a sentirsi diversa da loro, beh, per tanti motivi, diciamo principalmente per la sua passione per il folk, per questa musica un po' da anime antiche, io l'avevo definita l'altra volta. Io stessa l'ho pensato quando ho costruito mentalmente questa storia, lei per me era proprio un'anima antica che secondo me è una cosa di cui possiamo parlare proprio per quanto riguarda il sentirsi diversi, che magari è una cosa che tante persone sentono e non sanno come definirla, cioè magari per alcuni è la prima volta che sentono parlare di anima antica e poi scoppiano di vedersi in questa cosa, oppure c'è chi sa benissimo che cosa significa e può testimoniare appunto che l'essere è una persona così distante nel tempo dalle altre e crea a volte un disastro che magari non è perché gli altri glielo fanno pesare, ma perché loro si sentono fuori posto. Esatto, sì. E poi è una cosa che può ripercuotersi su tante cose, ora Lara c'ha in particolare il pallino della musica e quindi va a ricercare un po' queste ambientazioni, questi locali un po' in retro, con un'atmosfera di casa, magari anche poco popolati, lei mi ricordo va in questo locale in una notte buia e tempestosa, le capita di parlare col barista che dice ma sei venuta anche stasera, non c'è un'anima, no? E lei sì, questa band vuole sentire la musica, chi se ne frega se fuori è brutto tempo e dentro c'è poca gente, anzi meglio, e non tanto perché abbia un rigetto verso le persone, ma forse questo suo sentirsi diversa la condiziona in questo senso, al voler cercare di evitare il confronto il più possibile magari. Poi in realtà, appunto come ho detto prima, si può ripercuotere anche su tante cose, qui è una passione per la musica, fosse una passione per la tassidermia, magari sarebbe già qualcosa di più, no? Ci sono tante persone che hanno questi hobby particolari e che magari non condizionano tanto la loro vita quanto la loro socialità, perché se io voglio fare qualcosa che non è un hobby molto gettonato, è difficile trovare degli amici che lo facciano con me e questo è il modo in cui anche il sentirsi diversi condiziona un po' la vita delle persone a volte. Esatto, il sentirsi diversi secondo me in questo caso dipende molto appunto dal contesto in cui vivi, perché ora parlando di anime antiche, cioè quando sei una persona che si sente non al passo con i tempi nei quali sta vivendo, sicuramente è difficile perché la maggior parte delle persone magari si adattano al cambiamento. Faccio un esempio, ora tu sei un po' più giovane di me, io faccio parte sicuramente anche te di quella generazione che è passata dall'analogico al digitale e ha imparato a convivere con il secondo. Suo malgrado chi più, chi meno felicemente, io personalmente tante cose un po' le rimpiango, cioè faccio un esempio stupido, però io sono una di quelle a cui piace comprare ancora i compact dischi, i cd e i dvd. Nonostante io sappia benissimo che la musica me la posso cercare su Spotify o su qualunque altra piattaforma, così come i film, i film te li puoi tranquillamente comprare, scaricare e li hai lì sulla televisione. Non ti serve quell'oggetto fisico che prendi e non inserisci nel dvd. Io ho visto che ci sono persone che non hanno nemmeno più il lettore dvd perché dicono cosa me ne faccio, ma a me piace questa cosa. Quindi io da questo punto di vista un po' rifiuto questa tecnologia perché mi piace avere ancora quella piccola forma diciamo di appartenenza ai miei tempi passati. Ad esempio io ho l'ebook, ma in realtà i libri li voglio leggere in cartaceo, quindi non è neanche una cosa che faccio volentieri, anzi addirittura proprio per dire vabbè almeno non tagliano gli alberi a causa mia, vado spesso a comprare i libri usati, io faccio molto book crossing così mi sento meno in colpa, però comunque sia mi rendo conto che sarebbe molto più sensato avere l'ebook in cui puoi mettere migliaia di libri che non tenere la libreria piena, strapiena, che poi non sai più dove fare. Che è comodo perché quando vai in vacanza e ti vuoi portare dei libri, ti porti l'ebook che quanto peserà mai, è vero, è più comodo, ma la tecnologia in generale è molto più comoda. E queste cose io mi rendo conto che alcune persone mi prendevano affettosamente in giro dicendo che quando spendi soldi a comprare sta roba che quando te la puoi scaricare su internet c'è lo streaming, c'è questo e quest'altro. Hai ragione, sono soldi spesi. Però per me non sono inutili perché a me pensare di avere questa cosa lì rende felice. Certo, è una cosa che capisco e sicuramente capirebbe anche Lara. Come dicevo prima, non è l'unica cosa che la contraddistingue questa passione per il polka. Ad esempio io ho notato, non è una cosa anche questa, non è una cosa così fuori dal comune, però comunque non è neanche l'atteggiamento considerato normale, che è il fatto che alla fine del racconto lei si approccia a un ragazzo. Cioè fa lei la prima mossa. Non voglio sembrare una nonnina che vive nel passato. Il fatto che una ragazza si approcci per prima, un ragazzo comunque dice molto su di lei perché vuol dire prima di tutto che appunto nonostante sia all'antica magari per quanto riguarda i gusti musicali, non sia altrettanto all'antica per quanto riguarda magari l'idea di fare nuove amicizie, soprattutto se ci si approccia a una persona di sesso opposto quando si è interessato nel senso. E poi lo fa in maniera proprio scialla, cioè va lì, ci chiacchera, si capisce, si intuisce che alla fine magari andranno a fare qualcosa insieme. Poi appunto il bello dei racconti è questo, tu non ci dici bene come finisce la sua vita, tu ci racconti quel pezzo e poi lascia a noi immaginare il resto. Io avevo anche in mente di scriverci qualcosa poi di più lungo, più simile a un romanzo, ma vabbè, fra i miei 500 lavori tenuti nel cassetto in attesa che finalmente mi venga voglia di tirarli fuori. Però comunque sì, alla fine sicuramente quella è una caratteristica che sicuramente la rende molto più sicura di sé rispetto ad altre persone perché chiaramente se hai il coraggio, la faccia tosa tra virgolette di andare a approcciarti a una persona vuol dire che comunque non te ne frega così tanto di quello che pensano gli altri. E alla fine lei è così, tutto sommato, a lei non gliene frega niente di quello che gli altri pensano. Lei si sente diversa e tutto sommato lo percepisce perché gli altri magari fanno le battute, dicono questo, quest'altro, però lei dice vabbè, ma a me cosa cambia se tu pensi che io sia l'antica? Che cosa me ne viene del fatto che tu mi prenda in giro perché ho dei gusti diversi o perché ho dei modi di fare che non ti tornano? Io sono così, sono diversa e lei è una di quelle persone che in quella diversità tutto sommato sta a galla. Sicuramente ci sono anche, anzi, forse i più che si sentono diversi lo vivono magari come un disagio. Poi anche qui dipende dal grado di diversità, però è molto bello perché Lara, ad esempio, al contrario di Lucifero, che è il primo personaggio che nel primo racconto si è sentito diverso e poi tutto il casino che è successo, però insomma lui è già più, non dico insicuro, perché figuriamoci se Lucifero è insicuro, però comunque rimpiange l'essersi distinto perché gli ha portato a perdere le sue ali, l'ha portato nella posizione spavorevole in cui si trova dopo, contanto che magari se avesse potuto fare quello che voleva senza perdere le ali l'avrebbe fatto lo stesso, però lui rimpiange proprio l'aver perso le sue ali per aver osato distinguersi. Invece lei non vive la sua diversità come un disagio, è proprio un monito che lancia anche agli altri perché alla fine, per quanto si muove in una cerchia ristretta di personaggi, perché appunto in questo racconto non ce ne sono tanti, fa vedere, io sono così, prendere o lasciare. Sai, la differenza tra lei e Lucifero è anche che Lucifero vive la sua diversità bene e male, nel senso che lui è compiaciuto di se stesso, è una creatura superba, altrimenti non avrebbe osato ribellarsi, ma proprio perché lui è così diverso e non accetta i dettami del suo Dio rispetto a tutti gli altri, lui è insufferente di questa cosa, per cui dalla sua diversità nasce una ribellione. La diversità di Lara nasce in realtà da una cosa completamente all'opposto, cioè da un rapporto con il padre molto intimo e molto positivo. Quindi spesso certe cose che noi ci portiamo dietro, che magari ci rendono diverse dagli altri, sono semplicemente il frutto di esperienze alle quali siamo talmente legati o che ci hanno fatto talmente bene da, è come se piantassero un semino dentro di noi che poi germoglia e dentro di noi quindi cresce un qualcosa che alla fine ci condiziona per tutta la vita, in questo caso fortunatamente in positivo. Certo, anche però non c'entra niente, ma mi ha fatto venire in mente una cosa che è uno dei mantra che ripeto sempre quando vedo la gente magari scrivere nei commenti di Facebook che il solito, sai, vomitume d'odio, no? Cose come hanno fatto questo tipo di molestia e questa persona ha reagito in questo modo. Eh sì, però bisogna essere forti, bisogna avere carattere. Ecco, questa cosa che hai detto del semino è giusta, perché quello che io dico sempre è sì, ok, è vero, io probabilmente dovrei avere un carattere più forte, sapermi difendere, essere consapevole del mondo in cui vivo, però non si sa mai come quello che le persone fanno a me, dicono a me, che come potrebbe farmi reagire, ecco. Quindi non si sa mai come qualunque azione, qualunque esperienza viviamo, qualunque azione subiamo, non si sa mai come cosa vada a scaturire dentro di noi e quindi è vero, per questo sarebbe comportarsi sempre bene o quantomeno avere un limite da non oltrepassare. Sono tutte esperienze troppo intime, quindi non puoi dare per scontato che la risposta standard debba essere una. E quindi sì, anche per me è sensato dire sì, dovresti essere magari più forte, nemmeno più forte, però più resistente, dovresti rispondere in maniera diversa a questo tipo di attacchi. Ok, sì, hai ragione, va bene, ma tu mi stai dicendo questa cosa perché la vedi dal tuo punto di vista. Dici dal tuo punto di vista di persona che magari pensa che reagirebbe in maniera diversa io dovrei essere così. Va bene, ma il mio vissuto secondo te mi permette di avere questo tipo di reazione che hai te? A volte la risposta può essere sì, a volte può essere no. Infatti, qui appunto, e qui casca l'asino, che appunto siamo tutti diversi e quindi tutti con un vissuto personale. Ora, questa storia di Lara mi ha ricordato un pochino, non so se sei presente, quel libro di Nicholas Sparks che si titola L'ultima canzone da cui hanno tratto il film con Miley Cyrus e Liam Hemsworth. Allora, l'ho presente, è nella libreria, ma non l'ho ancora letto. In pratica è la storia di questa ragazza che è un po' interpretata giustamente da Miley Cyrus, che è un po' una scavetta collo, un po' una selvaggia, un po' una schiaccia, solitaria. Si capisce che ha un trauma per qualcosa e poi si scopre che sono i genitori separati, insomma, ha un vissuto particolare e andando avanti con la lettura e poi anche nel film si capisce che lei e suo padre suonavano al pianoforte. Poi, quando i suoi genitori hanno divorziato, lei ha smesso di suonare. Suo padre è un bravo pianista, se non ricordo male, non ricordo se lo insegna, se lo suona da qualche parte, ma insomma, lei va per le vacanze a casa del babbo e lui ha questo pianoforte e lei per tutto il film non lo tocca. Poi, a un certo punto, lei c'è la storia d'amore, perché ovviamente è... È Nicola Sparks, quindi, insomma, non ci si poteva aspettare diversamente. Esatto, e quando la sua vita si tranquillizza, lei riesce a riallacciare rapporti col padre, si calma un po', trova questo fidanzato, che cavolo, è lì a Mansworth, no? Si rilassa e allora questo suo blocco, questo suo blocco della musica va via e lei ricomincia a suonare, c'è proprio, mi ricordo la scena del film dove c'è Miley Cyrus con quel faccino tutto compiaciuto che porta a casa da tuo papà e gli dice oggi ho suonato di nuovo. E quindi, non so, mi ha ricordato un po' questa cosa, la tua storia, perché anche lì c'è il dramma personale, la figura del padre, che comunque tu non ci racconti tutta la storia di Lara, tutto il suo vissuto, ce lo butti lì a Cennato che c'ha questa posizione che c'è al padre, ecco. E poi, vabbè, la musica, ora io non sono una musicista o una cantante, tu, su, su, sì, canti, forse sì. Sicuramente lo puoi spiegare meglio di me. Allora, fra le altre cose, questa storia è nata proprio dopo che io, cioè non subito dopo, però comunque l'ispirazione nasce da lì, da un film che si intitola a proposito di Davis, dei fratelli Coen, che è un film bellissimo ma molto particolare. E anche protagonista di questo film, a suo modo è un diverso. Ora, lui è, anche lui, un personaggio comunque sopra le righe e non in termini completamente positivi. Cioè, è un personaggio che, una cosa che ho adorato di questo film è proprio questo. Lui ti viene presentato come un personaggio non positivo dal inizio alla fine e mantiene questa linea. C'ha degli alti e bassi, nel senso che c'ha dei momenti in cui sembra puntare verso la redenzione, ma poi ritorna su. Io l'ho trovato comunque un personaggio scritto veramente bene. Poi, insomma, i fratelli Coen non sono esattamente, insomma, dei terzoncini poco esperti. Diciamo che sono abbastanza una garanzia quando si parla di cinema. E lui vive, appunto, la musica in una maniera totalmente diversa rispetto al mondo che lo circonda, perché lui è rimasto molto ancorato al folk, lui è un musicista folk, appunto, e lui vorrebbe continuare a fare la musica in un certo modo. E tutti non fanno che ripetergli. Tu devi staccarti da questo mondo, da questa visione, perché la musica sta andando avanti con il mondo che, appunto, noi stiamo vedendo cambiare, evolversi sempre di più. Anche la musica cambia. Sta diventando più commerciale. È vero, ma ti fa fare soldi, ma ti porterà avanti. E lui, invece, pur di restare saldo, c'è i principi, perde occasioni di lavoro, si ritrova in condizioni disastrate, non c'è una casa, è un mezzo disgraziato. Però, nonostante tutte queste cose negative, lui ha questa unica, solida certezza, che è la sua musica. Il messaggio che ti ha mandato tu è che, comunque, bisogna essere fedeli a noi stessi, soprattutto per quanto riguarda una cosa banale come i gusti. Alla fine, se tu ascolti una musica, o fai un tipo di musica, sicuramente non farei del male a nessuno. Quindi, anche chi ti viene a criticare, a dirti, no, non lo fare così, farlo in un altro modo, ma cosa vuoi? Cioè, ma cosa ti cambia a te? Visto che siamo sempre in tema cinema, no? Mi hai fatto venire in mente un film molto bello, anche quello molto strano e particolare, che, non so se l'hai mai visto, si intitola Solo gli amanti sopravvivono. ed è con Tom Hiddleston e Tilda Swinton. È un film strano. Io, quando l'ho vista al cinema, sono rimasta ipnotizzata, perché l'ho trovato bellissimo, però, effettivamente, è un bellissimo strano. Proprio quelle cose che te arrivi alla fine del film e fai, io non so se ho capito. Però quello che ho capito è bellissimo. dove loro due sono, i due protagonisti sono due vampiri, che stanno insieme dall'eternità, dalla notte dei tempi. E quindi loro, praticamente, hanno visto tutto. E la cosa incredibile è che, nonostante l'eternità trascorsa, chiaro, passano dei periodi lunghi anche senza incontrarsi, senza vedersi, quindi poi a volte si ritrovano e hanno tanto da dirsi. Però, nonostante questo tempo infinito trascorso, continuano ad amarsi. E mi ha sempre colpito questa scena, a un certo punto, dove loro sono da qualche parte in Arabia, non ricordo bene dove, e stanno ascoltando l'esecuzione musicale di una cantante, che in un locale sta cantando con la sua band. Uno dei due, mi sembra lei, ora non vorrei sbagliare, comunque uno dei due, ascolta con rapimento questa esecuzione e dice, caspita, questa cantante è davvero brava, mi auguro davvero che faccia successo. e l'altro gli risponde, sì, è veramente brava, per questo io gli auguro che successo non lo faccia. E questa cosa mi ha veramente colpita, perché mi sono resa conto di quanto spesso la popolarità non sia sinonimo di bellezza, bravura o qualità in generale, perché alla fine si parla sempre, come detto, di gusti. Quindi anche questa cosa del restare fedeli a se stessi, rischiando di perdere magari l'occasione di popolarità, non è per forza uno sbaglio. È chiaro che rinunci a tanto, rinunci al successo, rinunci alla popolarità, magari rinunci ai soldi, però anche lì ti devi chiedere a cos'altro sta rinunciando dall'altro lato. E se per te è più importante non rinunciare a te stesso, allora a questo punto te lo sei data la sola risposta su cosa sia giusto fare. Certo. Se vogliamo, qui ora perché al solito noi abbiamo analizzato il tuo racconto dal punto di vista della protagonista, ma se vogliamo questo è un discorso che magari può essersi sentito fare il musicista della band. Esatto. Perché loro magari facendo questo tipo di musica sapevano che se andiamo in quel locale una sera piove, la gente non viene, ciao. Se c'era Lady Gaga la gente usciva anche con l'ombra. Esatto. Capito? Ho detto lei perché è musica pop, commerciale, poi a me piace Lady Gaga, non era una critica, però insomma a sentire... Lady Gaga sempre del cuore è una cittura meravigliosa. Se ci stai guardando, non credo, ma sappi che ti amiamo. Sicuramente, nel senso, a Lara è piaciuta, piace così tanto questa musica che lei ha deciso di andare lo stesso e fregarsene del maltempo. Ora, magari ci sarà anche stato qualcun altro ad ascoltarli, non penso che il locale fosse veramente vuoto con solo Lara e il barista, però diciamo che appunto, sì, essendo qui i personaggi secondari sono la band e il cantante, mi pare, lei alla fine vado a parlare con il cantante. Sì, esatto. Saranno appunto discorsi che loro in quanto musicisti si saranno sentiti fare spesso, ma perché non fai qualcosa di più commerciale, alla gente piace, uno deve scegliere se fare ciò che piace alla gente o ciò che piace allo stesso. Questa è una cosa che mi ha detto anche un mio caro amico, vedi come parlare di questo argomento poi apre a migliaia di cose da raccontare. Un amico che lui è nel suo campo bravissimo, lui ha studiato teatro, recitazione, canto, musical, e lui lavora in questo settore. E molto spesso lui ha provato un senso di frustrazione comprensibile nel vedere quanti sono gli artisti che escono fuori da questi talent, quindi dai vari amici di Maria, i vari X Factor, The Voice e quant'altro, che magari a livello qualitativo per una persona che ha studiato e quindi ha un certo livello di competenza, da quel punto di vista non sono granché. Mentre persone come lui che sono bravissime e io, lo posso dire, lui è veramente bravissimo, non lo dico solo perché è un mio amico, ma perché lo è, si vede spesso comunque precluse certe occasioni perché non è commerciale e il problema è sempre questo, se non vendi, se non sei per tutti o quantomeno per la maggioranza non ti possiamo prendere in considerazione, però magari hai dei contenuti anche più validi di chi è per la maggioranza, quindi perché ci deve essere questa mancanza di possibilità a chi è veramente bravo però non ti dà la certezza del successo perché purtroppo viviamo in una società dove il capitalizzare e il fatturare è sempre più importante del resto. Fai conto che io alla mia ultima presentazione del mio libro che appunto io scrivo romanzi storici quindi già un settore di nicchia di per sé perché non hai il pregno di tutti, poi sono un emergente quindi la nicchia è ancora più stretta e poi oltretutto non sono romanzi storici nel senso che sono ambientati in un'epoca ma la storia è ambientata da me, sono romanzi quasi biografici di famiglia o di personaggi. Sì, cioè non è che usi uno sfondo storico per fare l'armonie del quattordicesimo secolo ecco, non mi piace leggerli non mi piace scriverli diciamo che io scrivo perché ne sento la necessità non perché voglio vendere. fai conto che il mio primo romanzo che è uscito l'anno scorso l'avevo scritto a 18 anni messo in un cassetto e mai più guardato è stato il mio ragazzo a dirmi perché non provi a pubblicarlo non era neanche i miei interessi capito? quindi proprio per dire quanto me ne può fregare a me di vendere gli stili mi fa piacere se ormai che sono stampati qualcuno li prende però diciamo scrivo per me principalmente e alla mia ultima presentazione appunto il capo della mia casa editrice mi fa ma perché non romanzi un po' di più non ci metti anche qualcosa di fantastico alla Tarantino con cui alla fine di questa di Santa Gloria ha ammazzato ammazzato e io ho detto perché io sono una rispicatrice storica già tanto che te lo romanzi e ti ci metti i dialoghi per me io se no scriverei solo quello che è successo davvero avessi una palla di vetro di cristallo figurate se io mi metto io lo so che sarebbe sicuramente più più accattivante che la gente vorrebbe fare wow però non è nei miei interessi quindi capisco pienamente il discorso è una cosa che la gente spesso fatica a capire mi sono resa conto che per molte persone l'ambizione è diciamo la prima delle virtù quando a volte e non dico che essere ambiziosi sia sbagliato ovviamente lo è quando lo ha inteso nel senso più negativo possibile perché quando la tua ambizione ti acceca al punto tale da diventare una persona che ostacola il prossimo a quel punto cioè secondo me non è assolutamente una cosa di dovantarsi ma in generale l'ambizione non è un male quello che tanta gente secondo me non si rende conto è che ci sono persone che non sono ambiziose e non esserlo ora non esserlo proprio completamente nel senso non mi riega niente di dove va la mia vita no però persone che non sono ambiziose nel massimo senso di questo termine cioè che dicono io voglio fare questo nella mia vita perché mi rende felice punto quando riesco a fare questa cosa mi fermo se ci sono altri dieci livelli a me non interessa mi basta fermarmi a quel primo gradino ma ci sono persone che questa cosa non capiscono come sia possibile e quindi quando tu gli dici ma io sto bene così no però se tu facessi ma a me non interessa farlo io sto bene qui dove sto e forse anche questa è una cosa che tante persone provano e le fa sentire magari diverse in senso negativo perché quando il mondo intero ti dice devi fare di più devi fare di più devi fare di più e tu ti senti di non volerlo fare boh a chi è che non viene il dubbio ma forse sarò sbagliata io certo penso quasi a tutti bisogna essere proprio trovare quel momento in cui si è in pace con se stessi e capire che mi danno dei consigli ma il fatto che io non li accetti non vuol dire che non valga niente o non vuol dire che non abbia ambizione semplicemente che è un'ambizione diversa da quelle tante persone hanno quest'ottica di voler essere un gradino sopra e quindi come lo fai? attraverso il successo il successo fondamentalmente oggi sono i soldi sono la popolarità uscire in strada essere riconosciuti quindi a volte si perseguono anche ambizioni giuste in modo un po' squallido ora se penso proprio prima stavo leggendo sul profilo di una book blogger stava criticando le persone principalmente gli autori si parla di autori perché lei è appunto una book blogger gli autori ma anche gli sceneggiatori delle serie tv e dei film perché mi ricordo un discorso simile e le lessi anche inerente a un episodio del trono di spade criticava le persone gli scrittori di qualunque prodotto cartaceo che inseriscono scene di grande hype come anche gli studi principalmente quelli in contesto cioè completamente fuori contesto giusto perché non so cosa metterci ci metto quello infatti mi ricordo quando ci fu l'episodio di Sansa Stark stuprato da Ramsey Bolton che nel libro non c'è non ho letto i libri quindi mi fido di questo non lo so non c'è ancora poi sai devono ancora uscire tanti libri quindi magari non uscirà forse lui prenderà ispirazione dalla serie e semplici e lì lessi l'articolo un articolo che diceva cavolo ce l'hanno messo così a gratis giusto per far vedere che lui era cattivo e che lei era poverina perché ed è appunto ma ce ne sono tantissimi altri espedienti che la gente utilizza per fare scene o per produrre grande hype nei lettori anche se penso a tutti i romanzi che sono usciti in cui si parla di covid e il dramma delle mascherine il dramma dell'essere divisi io non sono tanto per queste cose perché poi mi sembra ne leggi uno ne leggi tutti alla fine è possibile che durante il covid tutti siano diventati scrittori perché raccontavano la loro esperienza quotidiana nel senso non succedeva niente eravamo tutti in casa io penso che per quanto siamo tutti diversi bene o male abbiamo avuto le stesse esperienze poi è chiaro sarebbe da aprire un capitolo su quelli che erano soli su quelli che erano depressi su appunto i vari modi di viverlo però bene o male quello che facevamo era lo stesso per tutti a parte per chi poteva lavorare e uscire quindi tutti questi romanzi usciti in cui si parlava di covid mi sono sembrati un po' cercare un appiglio facile per band da un lato sicuramente è stato spontaneo magari scrivere di covid nel senso che spesso capita che le persone che scrivono prendano spunto dalla realtà circostante quando c'è il covid chiaramente dici ma sono a casa non posso fare nulla la mia unica consolazione è scrivere magari ora da questa cosa brutta che mi sta capitando magari tiro fuori qualcosa lì ci può stare alla fine ci sono tante persone che hanno scritto delle proprie esperienze negative il problema è che quando diventa una forma di esorcismo personale secondo me va anche bene quando però poi come dici te la usi come espediente per fare più visualizzazioni vendere più copie beccare più click più like sì alla fine non è più una cosa spontanea allora a questo punto mi chiedo ma a te cosa interessa il successo inteso come visualizzazioni come soldini o ti interessa essere una persona che manda dei contenuti sinceri e nei quali che dì davvero anche perché bisogna vedere se c'è una rielaborazione tramite anche la propria fantasia di questi fatti qua che se io leggo un libro che è una storia un romanzo di formazione mi si infili uno stupro così senza più giustificarlo senza parlarne senza mi è capitato una volta infatti ero scioccata di questa cosa ma come non ha neanche senso perché dopo non si ripercuote sulla vita della protagonista non lo affronta ma come stessa cosa di quando infilano qualsiasi cosa inerente al covid un autore Graziano Caminiti l'autore dei gialli il gioco delle coppie il primo e oggi il secondo l'ho intervistato ne parlo brevemente per questa cosa lui chiesi se il covid in qualche modo l'avesse ispirato e lui mi ha detto sì ma non perché ha scritto di covid perché il fatto di stare chiuso in casa l'ha ispirato a scrivere un racconto horror dove ci sono dei protagonisti rinchiusi dentro a un cinema ecco questo mi sembra un ottimo modo di prendere un'esperienza vissuta anche comunque da tante persone non solo da lui e riproporla in chiave assolutamente data no è stata una cosa molto intelligente in generale appunto c'è un espediente narrativo ha senso quando è funzionale alla storia altrimenti se devi fare le cose così citando Boris e mettere la roba così debotto senza senso cioè no per favore no vi prego allora davvero restiamo fedeli a noi stessi al prezzo di continuare a essere persone che non si caga a nessuno certo ma anche perché comunque bene o male mi parli di covid io posso essere annoiata ma mi parli comunque di covid ma se mi parli di cose come stupri o violenze domestiche sono argomenti molto sensibili che secondo me dovresti sciacquarti la bocca prima di parlarne se devi parlarne così ecco cioè buttarlo lì così gratuitamente per riempire le pagine è di uno squallore nemmeno nemmeno da dire perché vabbè non hai fantasia allora mettici quello no piuttosto non metterlo perché non è questo il modo di affrontare il tema parlavi di covid e stavo pensando ritornando a monte quindi sul discorso della diversità vissuta personalmente quindi come la diversità di Lara come probabilmente il covid abbia portato in evidenza queste persone qui cioè queste persone che magari si non dico si chiudono in se stesse però magari si crosolano nella propria diversità e in alcuni casi quando non hanno la possibilità di confrontarsi con altri magari rischiano di farla diventare una cosa negativa perché ora parlando di Lara no Lara alla fine al di là del fatto che il covid chiaramente non tocca nessuno dei miei racconti perché è stato scritto prima e perché comunque non è la mia intenzione farlo non l'avrei fatto comunque però insomma lei quindi essendo totalmente libera dal covid non ha mai avuto nemmeno il sentore di doversi chiudere in casa no però lei ha di buono il fatto che comunque è una persona sicura di sé che tutto sommato le persone che ha intorno nonostante prenderle in giro bene o male la supportano la sua è una diversità appunto della quale lei si è diciamo investita personalmente che però non la porta diciamo a sentire il disagio mi è venuto in mente di quante persone invece magari si sentano diverse da altre e a volte è una questione di esperienza personale talvolta anche caratteriale cioè mi vengono in mente tutte quelle persone che sono da considerarsi timide molto chiuse che faticano a socializzare con gli altri e che poi magari rischiano di rimanere talmente tanto coinvolte dalla propria diversità da mettere davanti a sé uno scudo e quindi rifiutare qualsiasi contatto con il mondo esterno e non avere nemmeno la possibilità di capire che la loro diversità non è vista necessariamente dagli altri come un male non so se mi sto spiegando vengono un po' mente appunto quelle situazioni in cui la diversità diventa un pericolo per sé stessi nel momento in cui ci si autoconvince che gli altri la vedano come tale abbiamo esordito dicendo che Lara probabilmente ha passato una fase del genere e poi l'ha superata e si è messa in pace con sé stessa però appunto ci sono io come ho detto prima penso che i più quando si sentono diversi possono viverlo in un taglio di modi così ampio che sarebbe anche difficile starne a parlare ad esempio sempre nei tuoi racconti ce n'è uno in particolare che non so se è proprio il quarto quindi il prossimo di cui parleremo lo dirò subito perché io non me lo ricordo tra i primi ce n'è uno che ha una sorta di patologia diciamo non so come definirlo un po' più forte quando parleremo di questo racconto secondo me sarebbe interessante ricollegarci al personaggio di Lara perché ecco questo ragazzo ragazzo ragazza non mi ricordo neanche se il protagonista è macchio o femmina in questo momento consideriamolo a gender questo protagonista asterisco com'è che si chiama questa patologia che lui sente tutto molto intensamente sia le paure le fobie l'ecitazione qualunque sensazione qui potremmo aprire un mondo però lancerò solo dei piccoli input per poi parlarne un modino allora ci sono le persone altamente sensibili quindi le cosiddette pass o in inglese highly sensitive person che sono persone che appunto hanno questa capacità di percepire tutto ma non solo le emozioni quindi gli stimoli in generale in maniera molto più intensa degli altri giuro che non è una cosa detta tanto per ah vabbè ma io sono speciale perché non è così ci sono stati fatti proprio degli studi sul fatto che queste persone hanno delle stimolazioni nervose diverse e hanno delle aree del cervello che si illuminano in maniera differente per farvi un esempio non è la cosa che avevo pensato nei confronti del personaggio del mio racconto però per dire le persone autistiche tante persone asperger hanno questa tendenza a volte a sentire troppo e ad avere una percezione degli stimoli molto superiore rispetto a quelle che abbiamo noi quindi a tutti gli effetti sì esistono anche delle caratteristiche proprio da un punto di vista genetico neuronale ora io non lo so perché da questo punto di vista non sono informata e magari per la prossima puntata visto che parliamo di questo prometto di approfondire meglio la cosa e ne parliamo come se perché secondo me ecco è un aspetto interessante da approfondire molto interessante e l'ho tirato fuori proprio perché l'intero capitolo è incentrato sulla sua percezione di questa sua questa sua condizione ecco io non mi ricordo neanche perché lo devo rileggere mi devo preparare per l'episodio non mi ricordo neanche se succede effettivamente qualcosa ma mi ricordo che è veramente angosciante perché è lui lei che che parla di questo suo sentire troppo e questo sentire troppo lo fa sentir male fisicamente proprio quindi chissà se questa persona in realtà sicuramente non so faccio un esempio stupido se lui sente troppo perché ha il super udito e lo disturbano i suoni esteriori ovviamente sarà fisicamente male perché sarà tutto il giorno come Psyduck però sarà comunque immagine bellissima però sarà comunque in grado di avere una vita abbastanza normale ecco in questo caso non è così perché lui lei stesso stessa che soffre per la sua condizione in sé non per qualche disagio in quel momento preciso del racconto ecco lì mi viene da pensare è proprio il processo opposto a quello che ha Lara Lara la sua diversità chi se ne frega sono così amen questa persona invece si fa un problema dell'essere diverso perché chiaramente questa è una condizione medica psicologica non so quindi è un po' più grave del dire oh mi piace il polpio però comunque sia non penso che lui in tutto un disagio dovrebbe lavorare su se stesso in quanto dire un attimino calmiamoci perché allora non ne voglio non ne voglio parlare ora perché non mi voglio bruciare tutta la prossima puntata che secondo me invece è ricchissima di cose però ecco su questo posso dire che la percezione che noi abbiamo al di là del discorso della condizione dell'essere altamente sensibili eccetera la percezione che noi abbiamo incredibilmente è in grado di creare delle distorsioni della realtà enormi io parlavo con la mia psicologa a volte io le dico ah io ho questa sensazione che certe persone pensino questo e lei mi ha detto ma queste persone te lo hanno detto no si sono comportate nello specifico in un modo che cioè senza ombra di dubbio trasmettevano questa convinzione no allora perché secondo te deve essere così cioè tu hai una tua percezione che però anche se è solo una tua percezione tu l'hai trasformato in una realtà ma è una tua percezione quindi mi rendo conto che ci sono delle persone faccio un esempio sciocco perché noi siamo entrambi amanti di libri scriviamo leggiamo cioè non voglio spezzare una lancia a favore della categoria no io ho visto tante ragazzine parlo di ragazzine perché non lo so questo fenomeno l'ho visto più più diffuso fra le ragazze e meno fra i ragazzi non so per quale motivo però metto le mani avanti non dico che sia così parlo della mia esperienza personale ho visto molte ragazzine che si nemmeno vantavano però diciamo che raccontavano di come loro da brave divoratrici di libri si sentivano incomprese e non accettate perché loro erano troppo speciali che si perdevano nella libreria a guardare mille cose e gli altri non mi capiscono cioè come se fosse una condizione anormale essere una persona a cui piace tanto leggere e questo ho visto che le portava a chiudersi in se stesse magari a fare tipo a rifiutare di uscire con le amiche perché no vabbè ma io non voglio andare a questa festa io sto a casa a leggere però tesoro mio è bello che tu voglia stare a casa a leggere ma non è che ti devi precludere l'occasione di socializzare perché se socializzi allora non sei più una brava personcina a cui piace leggere e una persona acculturata sono due cose che grazie al cielo possono vivere di pari passo se una sera sei stanca e dici voglio stare a casa a leggere benissimo sono una persona estroversa quindi a me piace tanto avere contatto con le persone al tempo stesso sono una persona altamente intensibile quindi le eccessive stimolazioni emotive dopo un po' mi esauriscono quindi a volte io arrivo ad aver bisogno una sera di stare a casa poi flagellandomi perché a differenza degli introversi che dicono io sto a casa mi importa assai di voi che mi devo ricaricare io sto a casa e penso no ma io volevo uscire ma gli altri ce ne saranno male ma mio dio perché però per dire un conto sono persone che dicono io ho bisogno di ricaricarmi voglio stare a casa un conto sono quelle che si sentono quasi in dovere di avere questo atteggiamento perché sembra quasi sbagliato essere come altre e non c'è niente di sbagliato non c'è niente di male all'essere magari persone che per certe cose magari sono diverse ma per altri sono simili non bisogna essere diversi in tutto e ho notato che questa cosa rischia poi di creare un meccanismo veramente poi autolesionistico in senso diciamo non proprio fisico però comunque diventa deleterio perché malari poi queste persone davvero si chiudono in se stesse e si autoconvincono che gli altri le vedano come degli alieni perché stanno nell'angolino a leggere va bene che tu sia nell'angolino a leggere però nel momento in cui hai la possibilità di comunque confrontarti con altri non è nemmeno sbagliato quello non è che la socializzazione con l'essere umano è sbagliata perché tutte le persone fanno schifo e allora i libri sono i nostri unici compagni di vita no perché se no ti chiudi in un mondo tutto tuo mi ricordo non c'entra niente ma la mia mente fa dei salti assurdi mi ricorda quella puntata dei Simpson in cui Lisa si fa la sua nuova amichetta del cuore che è come lei una bimba intelligentissima con una fantasia enorme scrivono libri e si creano questo mondo ideale che è una cosa che da ragazzina abbiamo fatto un po' tutti te scrivi questa storia i protagonisti sono uguali a voi te sei così io ho questo potere tu sei fatta in questo modo però a un certo punto ti rendi conto che sono solo libri invece questa bambina era talmente proprio presa da questo suo mondo fantastico che per lei tutto era dentro quel mondo e la stessa Lisa a un certo punto dice guarda io sarò matta ma te mi superi alla grande io così non mi voglio ridurre ciao ciao arrivederci ora mi viene da ridere perché chiaramente i Simpson sono però visto che i Simpson fanno così non mettono mai nulla a caso hanno sempre una critica velata a volte nemmeno troppo a certi comportamenti della società ed effettivamente questa tendenza secondo me è una cosa che devono aver visto i sceneggiatori i creatori devono aver visto diffondersi in qualche modo e quindi rendiamoci conto di cosa possa invece derivare dall'idea di essere talmente diversi dagli altri da doversi poi comunque creare una sorta di prigione all'interno di questa diversità infatti l'hai detto benissimo prima quando hai parlato di distorsione di percezione della realtà alterata perché se vogliamo anche la stessa cosa che affrontano le persone affette da anoressia quando spesso l'essere anorestici non vuol dire l'essere magri perché non si mangia vuol dire vedersi molto più grossi di quello che non si è in realtà guardarsi allo specchio e vedere cose che non ci sono questo invece giusto per restare nei cartoni animati altissimi se non sbaglio in American Dead c'è un episodio dove c'è Stan Stan si chiama il pitagonista sì sempre città c'è altissima peraltro io quel cartone lo adoro e adoro il personaggio di Stan perché è doppiato rappino in segno io lo adoro e lì c'è proprio un episodio dove c'è lui che noi lo vediamo grasso tutto il tempo finché alla fine noi gli dicono Stan ma tu stai male allora lo vediamo come è in realtà ma per tutto il tempo noi lo vediamo come si vede lui cicciottello sempre che lui mangia sempre meno e poi invece ingrassa e poi scopre che cioè scopre pensa di scoprire che gli hanno messo del grasso nel cibo tutta la sua percezione e che è distorta è ganto perché lo fanno vedere a noi come se fosse la realtà quindi noi ci rendiamo conto di quello che è solo alla fine insieme a lui quindi proprio hai detto bene quando hai parlato di percezione alterata perché è così anche queste ragazzine di cui parli tu poi sai ti dirò io sono una che magari va alla festa si annoia vuole andare a casa a leggere ma perché mi piace io perché sono vecchia dentro però non penso che la gente mi giudichi perché io leggo in un angolo cioè al massimo diranno proprio palle però non finisce lì bisogna anche rendersi conto che comunque l'interesse degli altri è nei limiti il fatto di sentirsi sempre così osservati o giudicati vuole anche dire che tu ti ritieni molto importante per gli altri quando almeno che non si parla di familiari o amici degli estranei perché dovrebbero giudicarti sì no cioè secondo me è un po' a volte in alcuni casi frutto di una convinzione un po' stereotipica che specialmente fra le ragazze forse è per questo che mi ci fai ragionare che l'ho visto più diffuso fra le ragazzine e non fra i ragazzi che se tu sei una ragazza che ha degli interessi magari più tra virgolette superficiali allora sei appunto sei stupida sei superficiale sei un'occhetta sei quel tipo di ragazza che tu magari bambina che punta all'emancipazione non deve non vuole non può essere quindi l'unica cosa che puoi fare è proprio buttarti a capofitto in tutte quelle abitudini che sono tipiche delle ragazzine invece un pochettino più appunto emancipate che si distaccano a questo modello stereotipato e quindi no il trucco no no l'uscire al cinema no no questo no io sto a casa con i miei libri quando in realtà non c'è niente di male a mescolare due mondi che dovrebbe essere secondo me la norma il famoso discorso del io voglio andare a manifestare per i miei diritti di donna con i rossetti tacchi a spillo non sono le cose che devono essere agli opposti anzi sono le cose che più convivono e meglio è perché è la dimostrazione che non esiste il concetto della donna di serie A la donna di serie Z nemmeno della persona di serie A della persona di serie Z ma comunque cioè ora perché siamo di nuovo capitati in questo argomento mi piacerebbe scoprire se questa cosa è una cosa vissuta magari anche dai ragazzini se ci sono dei ragazzini che hanno avuto questa percezione nella loro vita oppure no in effetti sarebbe interessante se uno dei due ti promette fosse un maschio per poter offrire due prospettive perché alla fine noi raccontiamo sempre il nostro punto di vista che è molto più simile che se appunto fossimo un maschio e una femmina riccando Riccardo Riccardo se ci stai guardando dacci i tuoi punti di vista e prima o poi facciamo un'ospitata perché sì assolutamente è una cosa che penso spesso anche quando scrivo magari scrivo di un personaggio maschile mi faccio sempre il problema ma gli renderò giustizia i pensieri che io scrivo sono pensieri degni di una mente maschile cerco sempre di dire è una persona la persona intorno a questo ambiente questa famiglia quindi i suoi problemi potrebbero essere questi e lui potrebbe affrontarli in questo questo e questo modo però li penso io da donna del ventunesimo secolo quindi è sempre interessante pensare a veramente cercare di mettersi nelle menti degli altri secondo me l'esperienza dal punto di vista maschile è molto più utile per quanto riguarda le esperienze più che i pensieri o meglio i pensieri non male secondo me maschile e femminili in modo di vivere le emozioni dovrebbero essere simili il problema del maschio è che è purtroppo costretto da una serie di convinzioni vecchie secoli che gli dicono sì però tu non mostrare le emozioni tu però questo e quest'altro e poi hanno appunto un vissuto personale che magari gli fa vivere certe cose in maniera diversa però secondo me quando scrivi di un personaggio maschile come dici te la cosa fondamentale è pensare questo personaggio io come lo voglio rendere cioè se tu decidi che stai scrivendo un personaggio che ha vissuto per dire la sua infanzia in una famiglia molto tradizionalista e quindi che si aspetta dal maschio un certo tipo di ruolo e di mentalità allora sicuramente i suoi pensieri le sue parole il suo modo di esprimersi saranno frutto di quell'esperienza di vita lì secondo me la facilità è proprio nel fatto che sei tu a decidere della sua vita e quindi puoi dire no però io penso che questo personaggio deve avere una mentalità più aperta e allora non gli voglio dare questo modo di muoversi di pensare magari gli trovo un contesto di vita o delle esperienze formative che possono rendere più coerente il fatto che lui pensi in un certo modo piuttosto che in un altro però ecco secondo me da questo punto di vista non devi aver paura di non rendere giustizia a una mente maschile perché sei tu che l'hai creata con la mente maschile certo quello sì ad esempio ora sto scrivendo di un personaggio storico che sono messa in testa di farlo asessuale semplicemente perché ho creato tutta una storia mia per cui secondo me riuscirò a fare avere senso questa cosa a dare senso a questa cosa e quindi lo vorrei creare così cosa ho fatto io non sono un uomo non sono asessuale e quindi per quel che ho potuto ho cercato di mettermi in contatto con anzi ringrazio tantissimo Oleg che è il ragazzo che mi ha aiutata per creare questo personaggio l'ho trovato su una chatroom di asessuali d'Italia insomma poi vado a cercare tutte queste pagine particolari ho cercato quando volevo fare una volta un protagonista sordo una volta un bambino con autismo mi sono iscritta su tutti i fondi e mi piace essere preparata ecco è giusto il lavoro dello scrittore è al 99% informarci su quello che sta scrivendo infatti però ha maggior ragione se deve essere il mio protagonista a cui devo dare una voce così diversa dalla mia quindi però oltre ad essere la mia voce diversa sarà lo stesso protagonista in questo caso a sentirsi diverso dagli altri perché comunque questo personaggio vivrà in una famiglia con molti maschi cioè il babbo ha fatto 3000 figli ogni figlio si è sposato magari più volte ha figli in età molto giovane lui sarà adulto parecchio adulto con questa moglie giovane e carina e non avrà l'impulso di darle dei figli e quindi io ho immaginato che la sua situazione fosse appunto come quella di Lara e quella insomma di quasi tutti i tuoi personaggi di sentirsi diversi quindi per affrontare meglio questa diversità mi sono andata a informare su questo forum perciò non so poi tu magari poi ci dirai bene per ogni per ogni tipo di diversità come hai affrontato la cosa poi tu vabbè ci hai detto fai l'assistenza sociale quindi sicuramente tanti temi li conoscerai già però il rendervi dare voce a questi personaggi è stata come ho detto nella recensione la tua secondo me il tuo più grande talento è stato questo perché comunque non ne hai parlato in un saggio ne hai parlato attraverso dei personaggi quindi ecco è interessante questa cosa io ti dico grazie non so rispondere perché come ti ho detto c'è una volta io non mi rendo conto di quando faccio le cose io le faccio e basta poi mi rendo conto che la gente mi dice eh perché tu hai fatto questo bello bravo hai fatto questa cosa io sì cioè io l'ho fatta ma non ho la consapevolezza di come l'ho fatta di quando l'ho fatta cioè per dire io respiro è chiaro che respiro se no sarei a terra cianotica e so che ci sono dei meccanismi che il mio corpo attiva per farmi respirare ma non li so spiegare cioè io non lo so cosa fa fisicamente il mio corpo per produrre l'aria nei miei polmoni e farmela tirare fuori e buttare dentro e farmi sopravvivere però cioè fortunatamente sono qui che parlo quindi è veramente molto difficile per me però boh forse prima o poi farò un po' di indagine dentro me stessa e troverò la risposta a questa domanda no mi fa molto ridere perché ora se parlavi di personaggi ora prima di chiudere che insomma non so quanto siamo stretti con i tempi però stavo rendendomi conto che ci sono dei personaggi femminili protagonisti di certi romanzi che sono proprio quel classico esempio di diversità autoconvinta che dicevo prima che il resto del mondo magari vorrebbe tranquillamente accettare ma loro si impongono di non doversi miscolare alla plebaglia uno di questi è Bella Swan di Twilight cioè lei secondo me è proprio la perfetta rappresentazione di questa persona che decide che deve essere diversa che gli altri dicono sì vabbè poraccio cioè questa è una appena arrivata è un po' strana ma facciamola venire con noi vieni Bella esci stai con noi andiamo a fare shopping no non posso e si perde dietro a quella mebo di Edward Calvin cavolo è vero sì lei è vero tra l'altro arriva subito gli si fa il gruppo di amici intorno e lei che è sfuggente subito ora io il libro non me lo ricordo ho letto il primo ma non mi piacque quindi non saprei dirti però mi ricordo una scena del film che lei il giorno dopo che lui non va a scuola pensa è colpa mia che il puro caso è davvero colpa sua ma in qualunque altro caso nessuna persona si sarebbe chiesto ma non è venuto a scuola per colpa mia il mio compagno di banco ma che cazzo questo è vittimismo ecocentria in maniera estremamente vittimistica sì in maniera di persecuzione cioè vabbè sorveniamo sul fatto ora se abbiamo la frase di Twilight è finita sorveniamo sul fatto che lei poi nel secondo libro e film inizia a fare esperimenti e esperienze pre-morte per vedere Edward quando la gente normalmente dice bella ma che cavolo stai facendo vieni sopravvivi vieni con noi no non posso devo andare a deprimermi e a cercare di morire perché forse ripete il mio fidanzato va bene ok peraltro non parliamo di quanto sia secondo me anche un po' offensivo nei confronti di chi sperimenta davvero la depressione vedere una che dice che è depressa e poi ha dei comportamenti che sono tutto fuori che depressivi però vabbè questo è un argomento su cui si approfondirà poi le questioni più avanti però sì sono tanti questi personaggi e secondo me sono proprio questi personaggi che rischiano di dare una cattiva influenza sul concetto di diversità a volte inteso come passami il termine superiorità essere diversi non deve essere un banto a discapito degli altri perché se sei diverso non sei migliore sei diverso punto secondo me appunto essere sapere di essere diversi per delle caratteristiche proprie va bene è bello è giusto la cosa importante è sapere che tante diversità possono convivere e se tu sei una Lara di turno puoi avere degli amici a cui piace il rap che non ha voglia di andare nei locali quando fuori piove addirotto e che magari ti direbbe no ma io col cavolo che vado a parlare con una persona che non conosco e fare figuracce però si può si può essere comunque in relazione con chi è diverso da noi fin tanto che le due cose non vanno a cozzare l'una con l'altra finché io rispetto la tua vita e tu rispetti la mia è bello essere diversi insieme che bello io chiuderei qui per il momento questa frase guarda non roviniamo il momento basta coroniamolo qua anche perché diciamo che abbiamo variato un po' di più stavolta perché in questo appunto in questo capitolo si parla di una diversità molto tenue si possono anche fare meno esempi su un compatti di cronaca eccetera perché appunto è un personaggio che è consapevole ed è in pace della propria diversità e in pace con se stessa quindi non c'era così tanto da dire ne abbiamo parlato giusto appunto perché era giusto farlo ne abbiamo parlato parleremo di tutti i capitoli e poi comunque è anche giusto ogni tanto metterci un po' di positività visto che per lo più è la tristezza e sentimenti anche negativi ecco sì una volta ogni tanto che c'è qualcuno felice insomma celebriamo sarà tipo boh effettivamente su 19 racconti sarà penso una delle poche persone veramente felici all'interno di questo libro lei e Amelia nell'altro racconto sì esatto disperati giuro che scrivo anche cose allegre a volte quando mi va va bene allora noi vi ringraziamo come sempre per averci seguiti e ci vediamo domenica prossima con un episodio dedicato a un po' più forte sì esatto quindi a quello che si diceva prima per cui io prometto di studiare perché mi hai fatto venire in mente che ci sono un sacco di cose molto belle di cui parlare perfetto non vedo l'ora allora vi ringraziamo e ci salutiamo qui ciao a tutti mi raccomando per qualsiasi cosa commenti o precisazioni scrivete qui che noi siamo solo contenti di confrontarci con altre persone ciao ciao ciao